Amici del Bardo, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE. Ma prima vi ricordo che SmackDown va in onda alle 19 su Sky Sport 1, il canale 201. Qualora non riusciste a vederlo, niente paura. La prima replica è fissata per domani, giovedì alle 13, ma su Sky Sport Arena, il canale 204. E ora andiamo alle news. La puntata, trasmessa ieri in Italia di Raw, ha ottenuto dagli ascolti televisivi americani abbastanza deludenti, malgrado, secondo me, sia stata assolutamente piacevole e frizzante, proponendo molto più wrestling, molta più lotta e decisamente meno chiacchiere rispetto al recente passato. E allora, come mai questo calo? Beh, innanzitutto, a scatola chiusa, non sai mai cosa c'è dentro. E poi, tutta la tv americana sta subendo, fatti salvo, eventi specifici e particolari, dei cali, non dico drammatici, ma persistenti e importanti. Si stima, in linea generale, leggevo un articolo l'altro giorno, che le emittenti televisive a stelle e strisce, anche quelle più importanti, in diverse fasce d'orario, stiano perdendo tra il 7 e il 10% rispetto all'anno precedente. In più, si continua a moltiplicare l'offerta di prodotti e di intrattenimento e di piattaforme pronte ad ospitarli. Quindi, c'è più scelta, il pubblico si sparpaglia, i dati di ascolto crollano un po' ovunque. In aggiunta, ma è una mia idea, le anticipazioni di Ramate, però, non erano affatto allettanti e probabilmente, invece di attrarre e attirare l'attenzione, l'hanno distolta, generando un'onda negativa. Io stesso, raccontandovele nei giorni scorsi, in questa rubrica, non avevo nascosto come annunciare Rollins contro Ziegler, una sfida apparentemente dal risultato scontato, o un summit samoano tra Roman Reigns e Samoa Joe, viste le storie in atto e la narrativa recente sui personaggi, beh, non mi pareva una buona scelta. Su questo argomento, però, se volete aprire un dibattito o fare delle riflessioni, qui sotto nei commenti, utilizzando il faro dell'educazione, avete un sacco di spazio a vostra disposizione. Ora, la WWE verrà ancora rotta? Ci proporrà più parlato? È stato un caso eccezionale? Sono state le anticipazioni? Ah, non riuscire a pescare tra i fan? Insomma, avete parecchi argomenti tra cui andare a nuotare. Passando a SmackDown, pare che la WWE si sia rimangiata proprio tutte le anticipazioni di Ramate nelle scorse ore. Forse perché si è accorta anch'essa che, più che un'esca, rischiavano di essere dei repellenti per molti queste anticipazioni, dando l'impressione di una puntata di semplice transizione e facilmente perdibile. Per lo show che vedrete, spero, stasera su Sky, con il commento in italiano, sono stati dunque annunciati. Kofi Kingston contro i Gestals, un match non valido per i titoli detenuti dai rispettivi atleti, che però sulla carta potrebbe essere effettivamente molto emozionante. E poi, Amber Moon e Bayley, future sfidanti a SummerSlam, faranno squadra contro Alexa Bliss e Nikki Cross. Tutto il resto di quanto sbandierato i 4-20 è stato cancellato, tolto, non esiste più, fatto salva, ovviamente, l'intervista di Trish Stratus con Jerry The King Lawler, che dovrebbe in qualche modo, insomma, preludere al coinvolgimento di Trish a SummerSlam, probabilmente come combattente, oppure, meno probabilmente, come annunciatrice, presentatrice speciale. Qui sotto, mi raccomando, no spoiler su quanto è accaduto, il mio TG lo è sempre e anche i commenti devono seguire questa linea d'onda. Il 9 agosto inizierà la produzione televisiva di The Big Show Show. Non è un errore di pronuncia, si chiama proprio The Big Show Show. Un telefilm in 10 episodi, si ho letto bene, di circa 30 minuti l'uno, che successivamente, non c'è ancora una release date, non l'ho letta, comunque che successivamente verrà trasmesso su Netflix. Sapete che WWE con Netflix ha stretto una partnership e sono in calendario produttivo diverse serie che avranno come protagonisti o coprotagoniste le star della compagnia. E quindi, facendo 2 più 2, ricordandovi il nome di questo spettacolo, The Big Show Show, dovrebbe esservi chiaro come la star del programma sarà proprio il gigantesco The Big Show, che nelle ultime settimane, insomma, oltre a fare eventi di beneficenza, a fare diplomazia, a far da ambasciatore per la federazione, sia anche un attimo allenato, o riallenato, studiando i copioni per questa avventura. La trama di The Big Show Show si incentrerà sul fittizio ritiro del gigante, che, insomma, fittizio, tra virgolette, visto che siamo vicini probabilmente alla fine della sua carriera, e sulle difficoltà, probabilmente in chiave ironica e comica, ovviamente, dal passare ad essere una stella del ring acclamata in tutto il mondo al diventare soltanto un marito e un padre di due figlie. Quindi tutto questo dovrebbe generare, appunto, situazioni comiche, situazioni con equivoci e via dicendo. Ho dato una spunta, una lettura veloce, insomma, agli sceneggiatori e quant'altro. Ce ne sono alcuni molto noti proprio per serie di questo tipo, pertanto il progetto nasce apparentemente sotto una buona stella e buoni auspici. Intervistata da Talk Sport, Becky Lynch ha dichiarato che spera in un secondo evento Evolution, ovvero tutto al femminile. Secondo The Man, uno show del genere dovrebbe avere appeal dinnanzi agli occhi dei fan, malgrado, rispetto alla prima incarnazione della Kermess, la presenza di Ronda Rousey stavolta sarebbe davvero improbabile per come stanno oggi le cose. Al momento, per quanto ne sappiamo, è comunque più facile che tra ottobre e novembre ci sia uno SmackDown tutto al femminile, piuttosto che un pay per view a tema. Fermo restando che anche la prima ipotesi è tutt'altro che certa, anzi, è più per ora una fantasia che gira sul web, che potrebbe realizzarsi in concomitanza o a ridosso del futuro show in Arabia Saudita. La WWE probabilmente sta verificando un po' di cose anche perché proporre un first time ever le piace molto, ma c'è il rischio che questo first time ever si accolli e si tiri dietro come sci a tutte le polemiche che sono già immerse in ripetute circostanze connesse proprio al suo andare in Arabia senza che le donne possano combattere in quella nazione. Voi che ne dite ragione Becky Lynch, un pay per view tutto al femminile con le star WWE odierne lo guardereste e vi intrigherebbe? Oppure lascereste perdere? Qui sotto con educazione fatemi ascoltare la voce e la forza delle vostre opinioni. Intervistato da Complex, Roman Reigns ha ammesso quanto avevo sostanzialmente intuito in precedenza, non che ci volesse tanto, anzi, probabilmente anche molti di voi erano arrivati alla medesima conclusione, ovvero che il mondo del cinema lo affascina parecchio e che un domani non esclude di passare in quell'ambiente seguendo le orme del cugino The Rock che già gli sta aprendo parecchie strade. In più, l'abbiamo detto mille volte, The Rock ha una casa di produzione, è una forza immensa in quell'ambiente, la sua ex moglie con cui è rimasto in buoni rapporti lavora anch'essa ad Hollywood, insomma, tutto sembra essersi unito e intrecciato alla perfezione. Reigns ha citato le incognite legate alla sua salute e agli infortuni, dicendo, sapete, con la leucemia, il fatto che ci si possa far male, immaginarsi un futuro nel mondo del cinema non è un così grande peccato. Però ha anche rimarcato come ad oggi il mondo del wrestling rimanga la sua priorità assoluta. E ha aggiunto che gli piacerebbe che così restasse ancora per diversi anni perché il feeling, l'emozione che provi in un buona la prima di fronte ad un pubblico live è diversa rispetto a quella del giriamo una scena dieci volte. È bello essere una star internazionale, fare i tappeti rossi, andare alle prime del cinema, però Roman al momento è comunque ancora sentimentalmente connesso a quel brivido, a quel piacere che solo il wrestling e la sua cadenza di esibizione ti può dare. Insomma, alla fine, anche se ora probabilmente ha una schedula un po' ridotta, i suoi tanti match al mese li disputa ancora malgrado tutto quello che ha passato. Ospite del podcast di Steve Austin, Al Cogan ha confermato che non lotterà mai più. Ogni tanto emergono voci di un suo possibile match tra leggende eccetera e via dicendo, ma Alca ha ribadito che gli infortuni e le operazioni subite sono tantissime, soprattutto quelle alle gambe addizionate all'età perché Alca compirà 66 anni a breve, ecco tutto questo non può che indurre ad una decisione che è insindacabile, ovvero quella degli stivali appesi al chiodo. Chiudiamo con una breve, anzi, perché Agency Spotter ha nominato Stephanie McMahon nella lista dei 30 esperti di marketing più influenti su Twitter. Stephanie non scrive tanto, fa però post spesso connessi alle iniziative sociali della compagnia e si è guadagnata sul campo questi galloni. Ci sono un po' di comunicazioni di servizio che ora procedo a darvi, la prima è un ringraziamento per aver portato il video dedicato a D3, il ragazzo italiano che a Rory Union ha combattuto contro Braun Strowman, l'avete portato oltre le 10.000 visualizzazioni. E visto il periodo dell'anno, visto che insomma il mio canale è un po' particolare, per me 10.000 visualizzazioni sono davvero un bottino enorme, lucicoso, brillante, inestimabile. Grazie davvero e spero che il contenuto vi sia piaciuto e chissà, probabilmente, anzi, so già che nel futuro prossimo ve ne darò altri simili. Anzi, appena possibile, se i patti insomma verranno rispettati, se non ci dovessero essere imprevisti, faremo il bis e chiuderemo il cerchio con un secondo video nel quale D3 risponderà ad alcune delle domande che gli avete lasciato sotto il primo video, quello di qualche giorno fa. Dunque, se avete dei quesiti che volete porgli sulla sua carriera, su come è stato lottare in WWE, andate di là e scrivete, digitate sotto quello che volete sapere. Chissà, magari sceglierà proprio la vostra domanda. Poi, salvo sorpresi o imprevisti, la prossima live del canale, con chat aperta a tutti, la facciamo giovedì alle 21. Prendete nota e seguite la sezione community di questo spazio youtubico per eventuali cambi di rotta o di palinsesto. Prima di andarmene, vi ricordo anche che oggi SmackDown è alle 19 su Sky Sport 1, mentre la prima replica è domani, giovedì, ma alle 13 su Sky Sport Arena, il canale 204. E poi, come al solito, dite a roventi o non prende il tuo ginocchio in faccia e commenta con educazione. Qua sotto, ho tutte le news che il Bardo ti ha condiviso. Detto questo, non mi resta altro da fare che darvi appuntamento quanto prima, sempre e solo qui sul canale del Bardo. Alla prossima, ciao!